Mi piace molto l'intonaco, le terre, infatti volevo iniziare una serie solo di terre, terre in tonaci completamente astratte, senza forme, però in tonaci colorati, mi piacciono le scrivolature che mi ricordano qualcosa di ancestrale, quindi anche di archeologico, mi piace tantissimo, vedremo, se non li buttano a terra, se non vanno con i trattori.